Allora, ora vi mostro come fare dei caldoni fatto a casa. Allora, prendete la pasta, fate la forma con questo, vi esce un pezzo così, poi lo abbossate così, mettete la forma qui, arrotolate qui, perché colla, come dice la donna, mettiamo la colla, che è l'uovo, lo mettiamo un po' qui e poi chiudiamo. Ecco i cannoni qui, pronto ad essere al forno. Una volta che sono al forno e che li cacciamo, cacciamo questa forma, il tubo marrone e mettiamo crema dentro e sono pronti e buonissimi.